Appassionati di hockey, buonasera dal centro sportivo polivalente, in diretta per la ventesima giornata del campionato di Serie 1, fase regolare, incontro gama in ovescio Sadana Sandrigo. A ritroso su Capitano Borsi, rete, rete, Borsi e poi Garcia da sottomisura, è entrato in pista anche De Rinaldi, ha trafitto Catala, è virtualmente seconda in classifica generale con 39 punti. Due minuti, Facundo Ortiz, Maxil, a lato, chiude Corona, poi Miguel Esch, rete, trova il pertugio, Miguel Esch a 22 secondi dal termine. La perda Sandrigo, Facundo Ortiz, Facundo, rete, Bruno Alonso, rete, su passaggio di Facundo Ortiz. Ancora in avanti, per Garcia, rete, rete di Garcia, doppietta personale per la formazione di Paolo De Rinaldi. 3 a 1, e c'è la rete, e c'è la rete di qui Giovanni per il Sandrigo che riapre la gara dopo 5.04 di qui Giovanni della ripresa. Garcia, 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 rete, è tripletta, alte schiaccia, grande numero di Garcia dal polivalente. 2 minuti ora. Prendolin, rete per la formazione di Sandrigo a Corcia, Bergolin, Prendolin, 4 a 3. che è la meglio festa, Borsi, Ortiz, perde la pallina, prendolin, e pareggia, perde la pallina Ciarzana, con Ortiz, 5.45 al termine. Borsi, Garcia, Borsi, rete, il capitano, con un grande numero, trafiggio e Catalan, 5 a 4. Festa, perde la pallina, e pareggia, prendolin, a 3.17, tripletta. E qui Giovanni, festa, Ortiz, Ortiz, rigore per Sardana, fallo su Ortiz. E spinge Catalan, ancora Borsi, e chiude ancora Catalan. E termina l'incontro da Sardana, pareggio, peccato, due gole regalati dalla formazione della sorella nel finale, che comunque si parta seconda in classifica generale, a pari punti con i Lodi.